Buongiorno, good morning Milano, buongiorno, questa è Crystal Radio, io sono Fabio Ranfi, questa è good morning Milano e siamo qui di nuovo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Milano come stai? Come state? Cosa state combinando? Dove state andando? Siete già in giro? Oggi non piove, già questa è una bella novità. Avete visto i danni ormai ovunque, li stiamo contando da giorni, non solo a Milano, anzi, Milano alla fine ci è andata anche bene in confronto al resto della Lombardia, al resto delle città lombarde, però insomma finalmente riusciamo a vedere il sole, tra parentesi il sole che sta già alzandosi sulla nostra città, è difficile vedere l'alba, dopo quando cambieremo l'ora poi invece si tornerà a vedere l'alba molto molto presto, ma insomma questo è il martedì, martedì 10 settembre 2024, sono le 7.11 e iniziamo una nuova puntata di Good Morning Milano. Tante le cose che ci sono sui giornali oggi da andare a leggere, c'è un articolo di Repubblica interessante che dice quali sono i dossier aperti di questo settembre, cioè dopo le vacanze come riparte Milano e dopo lo andiamo a leggere bene. Poi avremo anche degli ospiti qui in studio con noi, insomma come sempre molto ricco il nostro piatto e quindi 331-7853-555, questo è il numero di Whatsapp a cui potete scrivere per apparecchiarvi anche voi insieme a noi a questa tavola, va bene? E allora partiamo, partiamo con la musica, partiamo con una canzone che parla proprio di Milano e parla di Milano e di un certo tizio di nome, Vincenzo. Alberto Fortis con Milano e Vincenzo, 1979, chissà come l'ha preso Vincenzo quando Fortis scrisse questa canzone, perché Vincenzo esisteva, era Vincenzo Micocci che era un discografico della casa discografica IT che poi dopo fece parte della RCA, la più famosa, forse una delle più importanti case discografiche, distribuzioni, etichette, insomma, della musica italiana, sta di fatto che Vincenzo Micocci appunto era questo esponente della casa discografica e Alberto Fortis, scritturato da questa casa discografica, fu messo un attimo in panchina, nel senso che era quasi costume l'epoca di far firmare i contratti a questi giovani artisti e poi magari tenerli lì anche uno, due, tre anni anche a volte senza produrre niente, senza fare niente e quindi diciamo che la rabbia che è montata in Alberto Fortis ha fatto scrivere questo brano che credo sia davvero uno dei brani più belli di quegli anni e che racconta bene anche appunto questo parcheggio milanese di Alberto Fortis che appunto le case discografiche ancora oggi sono quasi tutte basate a Milano ricordiamo che Milano è la città, la capitale della musica italiana tutto quello che è la musica gira qui a Milano e appunto già nel 1979 Alberto Fortis fu parcheggiato da qualche parte nella nostra città da questo tal Vincenzo, appunto Vincenzo Micocci della casa discografica IT e quindi insomma lui a un certo punto diceva basta non ce la faccio più adesso io ti ammazzerò Vincenzo se non mi fai fare un disco cioè il concetto era quello, fammi fare il mio mestiere, fammi fare una canzone e pensa invece Alberto Fortis Alberto quanto è stato importante invece questo parcheggio che ti ha dato la spinta per scrivere questa canzone che appunto è una di quelle più iconiche di tutte Milano, Milano parcheggio, Milano cosa si è fermato tutto durante l'estate e cosa succederà per la ripartenza ne stavo parlando poco prima appunto della canzone dicevo che su Repubblica è uscito un articolo molto interessante che si chiama Milano riparte dopo le vacanze tutti i dossier aperti e sono tanti, ad esempio nel titolo ce ne sono già due che insomma sono abbastanza interessanti che sono la Metro 4, la M4 che dovrebbe aprire ormai a settimane vien da dire perché dovrebbe aprire metà giugno insomma in teoria entro la fine di settembre già dovrebbe aprire adesso vediamo se uscirà questa data fatidica o comunque nei primi insomma prima nell'autunno inizio autunno dovremmo vedere finalmente andare i treni della M4 da San Cristoforo fino a Linate mi sa se riusciamo a vederli davvero così poi c'è la questione stadio quella anche quella non è una questione di poco si rimette a posto, si ristruttura finalmente sembra di sì WeBuild ha fatto i vari studi di fattibilità e sembra che sia la soluzione migliore ma com'è che a Rozzano continuano a parlare di Inter com'è che a San Donato continuano a parlare di Milan ecco questo è un altro tema e poi vabbè il tema dei temi non so se è lo stadio o quest'altro in realtà il tema dei temi comunque il nodo urbanistica nodo urbanistica che è sempre più complicato nel senso che c'è qualcosa che bisogna fare tutta la città mai si è fermata dal punto di vista delle nuove costruzioni soprattutto delle ristrutturazioni di vecchie costruzioni sappiamo quello che è successo lo scorso anno con permessi che hanno dato alla luce cantieri di grattacieli in ad esempio in cortili o in zone che dovevano essere salvaguardate insomma c'è tutto un tema soprattutto sui regolamenti che tanto che il governo doveva fare questo famoso nodo salva Milano che già il nome mi fa un po' sorridere comunque vabbè salva edilizia di Milano diciamolo così e poi non si è fatto nulla sta arrivando, non sta arrivando ci sono applicazioni, le regole insomma i temi sono davvero tanti e sono davvero complicati eh no, tenete le mani sul volante se state guidando mi raccomando so che potrebbe essere che vi viene un po' di pal fiction mania nell'anima ma mi raccomando siete ancora nella nostra città di Milano l'immagino così, il sindaco che trova dalle vacanze con questa musica spalanca la porta dell'ufficio entra dentro e dice moghe pensimi adesso sistemo tutto io vediamo chissà se davvero sarà così insomma i dossier li abbiamo sentiti quali sono quelli aperti l'urbanistica l'M4 l'M4 che appunto anzi grazie a chi ci sta scrivendo al 3317853555 è arrivato un whatsapp da Alberto che ci dice buongiorno al direttore Fabio a Beatrice agli ascoltatori di Cristal Radio buongiorno a te Alberto per l'apertura delle ultime stazioni di M4 si sta parlando del 12 di ottobre ecco vedete appunto quindi adesso doveva essere 12 ottobre vediamo speriamo di insomma sembra tutto finito nel senso che i cantieri sono stati smantellati quasi tutti quasi tutti in zona San Cristoforo appunto c'è la costruzione di questa passerella immensa mi verrebbe da dire questa passerella gigantesca che passa da una parte all'altra del Naviglio manco forse il fiume Atzon nel senso che davvero è altissima tra parentesi quindi non so poi parte diciamo molto più in là del Naviglio perché parte dove c'è la stazione appunto salta tutte le la ferrovia anche salta il Naviglio poi salta la via che c'è Ludovico il muovo la salta completamente e va a finire sulla via dietro che adesso non mi ricordo come si chiama ma comunque quella che diciamo fa entrare in Barona per intenderci più o meno ed è immensa tra parentesi bruttissima però la stanno ancora costruendo quindi io spero che poi una volta finita sia abbellita non so come non so come potrebbero farlo ad abbellire però mi auguro che sia un po' meglio tra parentesi parliamo di ATM mezzi e tutto ieri disagi ma grossi avete visto spero di no se non l'avete visto vuol dire che eravate bellamente a casa oppure eravate sistemati in altra maniera per andare e tornare dal vostro posto di lavoro ma dal 18 sciopero dei mezzi ieri e ha chiuso praticamente tutto le tutte le cinque linee metropolitane erano tutte chiuse quindi insomma niente di di semplice per questo rientro settembrino nella nostra città pronto il 9 settembre c'è stato il primo sciopero ATM dell'anno diciamo della nuova stagione del nuovo anno lavorativo vedremo adesso se terremo ancora la media di uno sciopero al mese come abbiamo fatto fino all'anno scorso più o meno era questa la media ricordiamo che ci sono i mesi in cui abbiamo avuto più di uno sciopero anche quindi insomma ieri davvero davvero tanti tanti disagi dovuti anche comunque ancora al da una parte si lo sciopero che ha bloccato davvero tutta la città dall'altra ancora i residui di tutte le piogge e i danni collaterali alla pioggia che ci sono stati nei giorni scorsi insomma quindi non è per niente semplice questo rientro al lavoro mi auguro appunto che insomma sia più semplice nelle prossime giornate chissà lo vedremo e lo vedremo vivendo appunto la città il 12 ottobre come dicevamo potrebbe essere una data papabile per l'apertura della M4 e ovviamente lo sappiamo già ma sta già girando notizie e tutto di come si rivedranno ad esempio alcune linee si parla di rivedere anche il 14 che fa Giambellino si parla di rivedere il 16 si parla di rivedere tantissimi altri mezzi pubblici che dovrebbero cambiare alcune linee tra parentesi c'è e su questo sono abbastanza d'accordo l'idea di togliere un po' di tram soprattutto quelli in lunga percorrenza dal passaggio in centro perché effettivamente è complicato poi dopo diventa un grande centro che non si muove più nonostante appunto ci sia comunque RAC che non dovrebbe fare entrare le macchine ma com'è che è qualsiasi ore del giorno della notte c'è traffico soprattutto nel centro storico di Milano non c'è traffico a Quartogiaro a Giambellino no proprio nel centro in Via Torino capito quello è il problema di Milano Adriano Celentano con azzurro azzurro il cielo forse oggi chissà sicuramente non lo è stato nei giorni scorsi cielo plumbeo che ha riempito e lavato la nostra città in maniera che insomma avremmo fatto anche volentieri a meno perché poi sappiamo come quell'acqua in realtà che diciamo ah finalmente ha piovuto così almeno vanno giù il particolato va giù il PM10 l'agricoltura prende acqua e tutto in realtà quel tipo di acqua che viene giù non aiuta anzi in realtà fa solo danni ma su Corriere della Sera a Milano troviamo la domanda delle domande leggo appunto dalla Corriere della Sera perché a Milano le strade ormai si allagano anche dopo una pioggia normale è la domanda che ci siamo fatti tutti quanti ecco normale messo tra virgolette non so più neanche se definirle normali queste piogge che ci sono comunque in questi giorni con questo non voglio difendere niente e nessuno però diciamo che forse le nostre città non erano state concepite per ricevere questa quantità d'acqua in questa modalità nel senso che forse a Bangkok sì a Milano forse no ecco quello mi viene in mente nel senso il solito discorso ma in Giappone hanno le case che quando c'è il terremoto e ma quelli sanno di essere sismici da sempre fanno le case in quella maniera da sempre soprattutto potete vedere 70 anni 80 anni 90 anni fa venivano rase al suolo le città quando c'erano i terremoti in Giappone adesso hanno imparato a fare le case giuste noi non siamo abituati ad avere questo tipo di acqua quindi abbiamo costruito delle città che non erano pronte a questa topologia di acqua soprattutto porto sempre un esempio che è lampante la M2 la metropolitana 2 quando è stata costruita è stata impermeabilizzata il tunnel della metropolitana viene impermeabilizzato solo da metà in giù perché tanto era ben lontana dalla falda acquifera quel tunnel e se mai si fosse salita un po' la falda acquifera vabbè avrebbe toccato la parte bassa del tunnel e quindi l'acqua non sarebbe entrata bene dopo così tanti anni da quando abbiamo costruito la M2 a quando abbiamo chiuso tutte le aziende che sfruttavano l'acqua e la falda acquifera intorno alle fermate intorno ai tunnel della M2 cosa è successo? che la falda acquifera ha superato il livello dell'impermeabilizzazione dei tunnel della M2 quindi l'acqua non entra da sotto ma entra da sopra ok ma questa cosa qui era quasi impossibile da capire 50 anni fa quando è stato costruito tutto quell'ambaradan lì adesso infatti i famosi lavori che stanno facendo sulla M2 e anche perché stanno facendo la impermeabilizzazione completa di tutto e quindi la domanda perché a Milano le strade ormai si allagano anche dopo una pioggia normale allora la domanda è un po' tendenziosa però la risposta in realtà è da una parte sicuramente è una città non costruita per gestire un certo tipo di pioggia dall'altra quello che sappiamo tutti tombini griglie foglie e bocca di lupo è stato fatto poco così dicono gli esperti ringraziamo sempre gli esperti quando sono sui giornali gli esperti è questo che sembra cioè la manutenzione delle vie di fuga dell'acqua ok sono pari a zero ormai e quindi vanno sistemate quindi bene la rete idrica sotto con tutti i tombini tutte le bocche di lupo che fanno scendere l'acqua dalle strade ma se queste bocche non vengono pulite non vengono c'è un grosso problema qualche settimana fa poco prima dell'estate ricordo sempre Simone Lunghi in Angelo di Navigli è andato a fare un giro davanti all'università cattolica e hanno pulito un tombino che era strapieno di coriandoli delle lauree pensate una cosa che nessuno di noi penserebbe sia un problema e invece è un grosso problema quindi anche quando noi facciamo delle cose stiamo attenti a quello che facciamo nel senso che dobbiamo stare molto molto attenti perché ci sono sempre delle conseguenze i cromacose con malavita cromacose che sapete per me essere uno dei simboli di Milano nonostante loro non siano milanesi va bene non vado avanti a dire nient'altro anzi dall'acqua passiamo al fuoco perché leggo da Milano Today se qualcuno ieri in zona di San Donato e si è chiesto cosa fosse quella grossa e alta colonna di fumo che vedeva bene erano il fumo delle fiamme di un incendio in un supermercato della Lidl le fiamme sono divampate nel pomeriggio di lunedì appunto a San Donato milanese un incendio scoppiato nel pomeriggio coinvolto il magazzino di un supermercato Lidl a San Donato milanese leggo appunto da Milano Today il rogo è scoppiato intorno alle 17 nella struttura di via Aldo Moro sono intervenuto subito i soccorritori del 118 e i pompieri l'agenzia regionale emergenza e urgenza la REU ha inviato d'urgenza appunto tre equipaggi in codice giallo e non sembra che non ci siano state persone ferite né intossicate sul posto vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con cinque mezzi sul sito ci sono anche le immagini sia foto che video alta colonna di fumo fumo bello denso in tutta la zona e comunque appunto sembra che l'incendio comunque sia stato subito sotto controllo nel senso che avrebbe interessato solo il lato del magazzino e in quell'istante per fortuna non c'erano persone all'interno del magazzino stesso appunto quindi soltanto tanto tanto fumo bello denso tra parentesi e quindi pericolo scampato quello che nell'ultima riga poi viene lasciato quindi bisognerebbe magari un po' cercare di capire meglio cosa significa questa cosa nell'estate del 2023 cioè praticamente un anno fa la stessa struttura era stata interessata da un altro incendio incendio infatti c'è anche il link all'articolo che appunto uscì all'epoca era il 14 giugno del 2023 e c'era stato un incendio appunto nel magazzino del stesso identico Lidl boh chissà oggi è il 10 settembre e oggi invece passiamo dall'altra parte di Milano se siete in zona Buenos Aires auguri perché iniziano i lavori inizio i lavori di restyling Milano the city of rendering da un render finalmente si passa alla realtà dal 10 settembre per circa 20 mesi i lavori sul corso marciapiedi più larghe i wall i wall scusate e una pista ciclabile che Milano Today definisce vera e non solo con il cordolo pronto quindi a partire i lavori inizieranno appunto quest'oggi 20 mesi più o meno cioè quasi due anni vuol dire quindi per due anni avremo corso Buenos Aires che sarà praticamente inagibile diciamo in realtà sappiamo che si spostra il cantiere a pezzi prima fa una parte poi l'altra man mano va avanti tra pazzi credo che parta adesso verso il centro di Buenos Aires poi va verso Loreto ma poi ritorna verso Porta Venezia una cosa del genere in tutto questo con la grande incognita ricordiamoci sempre quindi il nuovo restyling di Buenos Aires finalmente diventerà con i marciapiedi più larghi meno spazio per le auto io sono solo contento secondo me se vai in Buenos Aires in macchina scusami ma se non hai un problema di deambulazione non capisco perché tu ci vada nel senso che c'è la metropolitana sotto ci sono i mezzi la bicicletta puoi andare in qualsiasi modo anche perché vede a fare shopping e non sai dove posteggia la macchina quindi vaici a piedi ma la cosa interessante sarà vedere come si potrà far convivere i lavori su Buenos Aires con i lavori molto più impattanti che dovrebbero in teoria partire su Piazzale Loreto e lì sono sono questioni complicate ecco diciamo rimaniamo così Snap Rosaline ve la ricordate? Rosaline Snap è la canzone che fu portata pensate all'Eurovision Song Contest di Torino credo fosse l'anno di Torino dall'Arminia cioè pensate all'Arminia vi porta questa canzone non vince l'Eurovision perché non lo vince non arriva neanche forse tra le prime ma poi spacca ed è stata una delle primissime canzoni dell'Eurovision a diventare un trend su TikTok era l'anno giusto era l'anno del boom di TikTok quindi insomma ci sta ci sta era proprio l'anno giusto comunque è stato di fatto appunto io sapete che è il grande amante dell'Eurovision avevo voglia appunto di dirvi questo a proposito di Eurovision Torino parliamo quindi anche di come si chiamano i Maneskin avete sentito potrebbe essere che fra breve avremo il primo singolo da solista di Damiano dei Maneskin è riuscito con questo video reel stories chiamatelo come volete dove sale da solo in un'auto e ha la domanda di fuori voce fuori campo che gli chiede dove vuoi andare lui gli risponde ovunque e quindi insomma vedremo così un momento poetico l'ha tolto poi non ci sono più riferimenti ai Maneskin nella sua bio su Instagram sembrerebbe altri hanno detto sì perché non ci stava perché ha dovuto mettere le robe nuove sul where you want to go everywhere comunque vedremo anche qui come andrà voi ditemi invece se siete in zona Buenos Aires se state già vedendo da bravi Umarell se state già guardando i cantieri i lavori in corso su Buenos Aires Milano che appunto è metafora del rendering secondo me invece secondo i Baustelle è metafora dell'amore i Baustelle Milano è la metafora dell'amore almeno secondo i Baustelle secondo voi invece Milano è la metafora di che cosa che metafora trovereste per Milano c'è chi dice che Milano è la metafora del grigio che Milano è la metafora del traffico che Milano è la metafora del caos, dell'insicurezza e invece poi arrivano dei poeti come Iba Austella a dirci che Milano semplicemente è la metafora dell'amore questo è quello che ci piace dire di Milano speriamo appunto che sia così anche per voi e speriamo che lo sia tutte le mattine quando ci ascoltate qui su Crystal Radio qui a Good Morning Milano FM 96.2, Dub Plus e poi lo sapete tutto quello che è anche da parte internet vi ricordo anche il nostro sito goodmorning.milano.it alle 7.52 stiamo quasi per andare in pausa poi c'è il giornale radio e poi arrivano i nostri ospiti dopo il giornale radio 331 78 53 555 il nostro numero di whatsapp è qui pronto per poterci iscrivere quello che volete noi condividiamo con voi la mattinata quindi possiamo fare insieme ciò che volete e allora andiamo con un po' di musica andiamo con la musica quella lì degli anni 90 quella che vi piaceva tanto, quella che ballavate come dei forsennati bello che dico a voi ma in realtà ero lì con voi a fare quei passi alla Carlton ricordate Carlton di Willy Principe di Belera ecco quella roba lì più o meno si ballavamo tutti più o meno così ma lo facevamo felici e spensierati in questa città che abbiamo detto essere forse come dicono i maustelle la metafora dell'amore andiamo con un po' di musica poi giornale radio di nuovo qui insieme su Crystal Radio con Good Morning Milano It's in pre-rend morning's tour time alle 8 8 e 0 9 minuti siamo qua dopo il cristallistori delle 8 e non sono solo perché con noi c'è Cecilia Riemer buongiorno Cecilia buongiorno Fabio buongiorno benvenuta bentornata è sempre un piacere essere qui anche se ogni volta ho la voce distrutta però io do la colpa all'orario do la colpa all'orario al secolo Cecciux su Instagram è Cecciux giusto? esatto quindi se volete seguirla seguitela su Instagram con il profilo Cecciux siamo qui perché appunto Cecilia tu sei una musicista cantante cantautrice anche posso non aver scritto delle tue cose giusto? sì 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 quindi rientri anche nella categoria cantautrici volendo ma soprattutto c'è questa cosa che mi piace tantissimo che tu fai che è quella di andare a suonare per strada esatto lo fai mai da un po' anche? sì da due annetti cavolo sì sì ricordiamo che tu quanti anni hai? anni e mezzo tu quanti anni hai Cecci? 21 21 anni quindi da 19 anni hai preso la tua chitarretta e sei andata a suonare per strada esatto perché? ma allora voglio la versione vera non quella che dice ok non quella non quella che dice mamma papà o quella che dice ai fan allora da una parte perché vedevo tante persone farla farlo e mi piaceva un sacco come cosa volevo provare dall'altra anche perché era un periodo in cui mi trovavo al verde e avevo bisogno in qualche modo di fare un po' di soldi di monetizzare la tua arte esatto e ce l'hai fatta nel senso che comunque funziona no? cioè nel senso ho iniziato mi è piaciuto un sacco mi sono divertita tantissimo e da lì ho iniziato non sei l'unica non sei l'unica che fa questa cosa tant'è che infatti negli anni il comune di Milano è dovuto ricorrere a delle strategie per gestire questa cosa perché immagino che sia soprattutto magari nelle zone più trafficate una roba tutti vogliono andare a suonare lì no? ecco e quindi in realtà c'è proprio tutta una modalità per cui a Milano chiunque faccia già l'artista adesso poi mi spieghi bene questa cosa può prenotarsi un posto spiegami tu come funziona allora prima c'era un sito terribile assolutamente non funzionale che poi è diventato grazie al cielo un'applicazione erogata dal comune che funziona benissimo io mi diverto un sacco di usarla sostanzialmente gli artisti in questo caso di Milano ma vale per diverse città italiane tantissime adesso sempre di più ci si registra c'è una pratica burocratica un po' noiosa un po' lunga per la quale tu devi certificare di essere un artista devi mandare documenti video insomma devono accettarsi dimostrare che già fai quella roba esatto non che adesso domani decido di diventare artista di strada così esatto in quarto artista e tra l'altro non solo per la musica ma per qualsiasi tipo di arte stradale quindi è proprio bello io rientro nella sezione musica quindi ok voglio fare il mimo io volevo fare c'è anche quel tipo di arte eh Beatrice mi metto la tutina nera e vado a fare il mimo in mezzo alla strada so fare giusto la corda forse e quello alla finestra volendo potresti come diceva Aldo Giovanni Giacomo nel famoso film e ci si registra a quel punto tu hai una mappetta di Milano divisa in zone selezioni la zona e vedi ti piace così tanto l'applicazione che la chiamai mappetta non una mappetta mappetta dovrai sia acustica o amplificata ok e a quel punto tu semplicemente ti presenti hai il tuo slot la tua postazione prenotata quindi se passano a controllarti sei a posto cioè sei certificato artista che è lì ma passano a controllare intanto? a me non è mai capitato ma perché quanti siete? cioè sull'app so che puoi vedere anche gli altri sì ti senti un'idea di quanti più o meno a Milano non ne ho idea centinaia e centinaia forse no migliaia no però nel senso sì sì no un sacco io due con Beautiful Day e speriamo sia un Beautiful Day il giorno che appunto vai a suonare esatto quando sarà il prossimo? venerdì questo venerdì mattina dalle 11 alle 13 in piazzale Baracca ah ok sperando che il tempo regga io davvero spero che sia un Beautiful Day davvero vedendo le piogge di questi giorni quindi incrociamo le dita tra i panesi appunto piazzale Baracca non è una di quelle zone che mi verrebbe in prima in mente prima parlavo di Corso Bonosare mi verrebbe in mente andare lì ad esempio invece come mai scegli certi luoghi rispetto ad altri? ma allora da una parte per la vicinanza a casa nel senso che esatto spostandomi con i mezzi perché in macchina ho appurato che è impossibile da Milano ho tutta la caravana dietro di cose che mi devo portare tra cui chitarra amplificatore borsa insomma un po' di cose quindi è abbastanza vicino ma è una zona anche abbastanza bella dove passano abbastanza persone quindi di venerdì mattina però esatto sì perché sono andata alcune volte di pomeriggio ma non c'è la stessa affluenza non c'è lo stesso riscontro e quindi in realtà ho capito che di mattina funziona forse di mattina c'è la gente che in realtà non deve correre per andare a lavoro a quell'ora perché sono le 11-11 metri quindi uno sta tranquillo a quell'ora quindi vuol dire che vive la sua giornata serena e tranquilla pomeriggio invece magari hai i figli ad andare a prendere a scuola e porta il figlio a judo o quell'altro a tennis quell'altro in piscina quell'altro non sono dimenticato in macchina e quindi insomma non è facilissimo effettivamente va bene e quali sono insomma avrei magari cambiato anche prima di tutto tu dicevi l'attrezzatura la chitarra l'amplificatore basta o hai anche adesso sintetizzatori sampler basi looper cose del genere no perché ho già la chitarra con dentro tutti i cavi cose varie anche cartelli che metto sotto con insomma il mio nome chi sono e tutto l'amplificatore magari il giro dove appoggio il tablet con alcuni testi perché non sono ancora un un jukebox jukebox mi mente mi mente e poi la mia borsa con le mie cose insomma quindi in realtà questo che così non sembra tanto però in realtà è un bel non è neanche un gigante la povera Cecilia c'è un immagino che insomma non è no esatto il mio carrellino che mi aiuta sì sì no ormai ho la tattica per il carrellino una volta si prendeva in giro il carrellino era la roba della nonna che andava esatto a fare la spesa il carrellino che usavano i miei nonni ormai è sdoganato visto che c'è la scuola con dei carrellini gli artisti di strada usano il carrellino sì ma più che sdoganato quali sono le canzoni che fai più spesso o ti vedo anche richieste magari sì allora tendenzialmente sono proprio canzoni che conoscono tutti cioè i grandi classici italiani o in generale i grandi classici che appunto conosce sia il genitore medio di 50 anni che il ragazzino di 15 che il ragazzo di 25 cose che una persona che passa lì e ti senti sottofondo dice ah quella canzone se la canticchia tra sé se oppure insomma viene in mente dimmi che non c'è ancora qualcuno che ha conto a dirti invece mi fai l'ultima di Shiva mi fai oh quella non è mai successo oh la H7 no per adesso ancora no ma meno male c'è ancora un barlume di speranza allora no poi ogni tanto è anche passato qualche mio follower qualche persona che mi conosce che in quel caso magari mi ha fatto la richiesta insomma per dire ciao guarda io ti seguo mi piacerebbe un sacco sentire questa canzone e quindi ovviamente con più che piacere immenso gliela suona insomma è tutto fai mai fai mai pezzi tuoi? ma in realtà così per strada è difficile nel senso che non hai l'attenzione di qualcuno che ti ascolta in quanto artista o meglio sì però è più complicato magari ogni tanto per sfizio quando dico eh ho voglia di questa canzone anche se non è la canzone magari che tutti conoscono la suono anche perché per prima cosa deve essere un piacere per me andare a fare arte di strada quindi e poi ce n'è una so che canti sempre l'hai cantata anche online l'hai cantata anche qua una volta ed è un pezzo vabbè che adesso andiamo a ascoltare Beatles Let It Be Let It Be The Beatles alle 8 e 25 minuti cavallo di battaglia di quanto ho capito per te Ceci com'è che fa questo per sentire un po' un attimo com'è che fa? Let it be let it be let it be let it be whisper words of wisdom let it be più o meno capito avete capito perché non dovete perdervela quando tu pubblichi poi sul tuo profilo Instagram poi su questo canale Whatsapp esatto sì che è super comodo per tutte le comunicazioni per le persone non telegrama Whatsapp hai fatto sì penso più facile più fruibile sì sì vado lì è un canale broadcast dove la gente può entrare io posso scrivere metto tutte le comunicazioni di quello che faccio quindi anche eventi di busking che è il termine più carino per dire arti di strada sì sì e quindi così è questo e quindi ti si può seguire sia a busking è famosissimo il festival di Ferrara c'è un festival che è pazzesco chiunque io faccio tanto ma poi in realtà sono andato anch'io negli anni primi anni 2000 sono andato anch'io una volta a fare niente a guardare e basta nel senso racconta anche a te l'ho raccontata tante volte a un certo punto nella mia vita ho pensato che volessi fare il giocogliere ok e quindi sono andato a vedere cose delle palline e la prima lezione ti fanno fare con due palline ti dicono lanciatela da una mano all'altra dopo un quarto d'ora è arrivata la maestra a dirmi magari tu inizia con una ottimo quindi ho capito che non era quello da lasciato stare un grande margine di miglioramento no invece io ho lasciato stare ho detto vai fa niente parto da troppo lontano quindi ho capito che non è quello quando però appunto vai a suonare così cioè le prime volte non c'era una sorta di due cose per i boomer come me c'era da una parte la vergogna dall'altra quella di passare per un pezzente che mi indica in mezzo alla strada diciamoci la verità guarda ci passi sempre quando inizi penso non avevo tanto paura perché mi è sempre piaciuto mettermi in gioco buttarmi tutto c'era un po' con l'ansietta del caspita sono preparata questa cosa la gente si fermerà magari avevo l'ansia che qualcuno si fermasse mi dice se no guarda devi andare via oppure che qualcuno mi insultasse non lo so questo sicuramente non succede se non succede e comunque la potete seguite su instagram che potete vedere appunto quando suonerà nei prossimi giorni ancora un po' di musica poi torniamo qua per gli ultimi minuti insieme a te andiamo avanti con i clash e lo dice anche Mina che l'importante è finire ma noi non siamo ancora alla fine abbiamo ancora un po' di minuti per stare insieme tra pazzi ceciux ci scrivono al 331 7853 555 Fabio dici qual è nel senso che ci sono un po' di ceciux su instagram abbiamo visto allora credo che il gioco sia che tu sei ceciux esatto con la doppia c iniziale con la doppia c iniziale quella che fa la differenza cc cc e c u ecco la spelling questa cosa che è così distante da me ogni volta chiedo scusa no no chiedo scusa anzi tu studi lingue quindi sarai sicuramente più brava di me a fare uno spelling io invece parlo a Vander tutte le mattine da una radio comunque cercatela su instagram perché in realtà e quindi grazie a chi ci ha scritto che ci ha detto guarda che ci sono almeno 5 ceciux invece no ceciux con due c cc e ciux dopodiché trovare un username più semplice ma non sarebbe divertente no anche perché tu sei cecilia e riemer sì ma con una c eh ma così vabbè comunque sta di fatto in realtà se cercate cecilia e riemer comunque viene fuori sì esatto poi io riemer come riemer come riemer io me lo ricordo sempre ogni volta che devo scrivere il tuo nome o te la chiamare ah perché è reimer no riemer ormai è la formula che uso come riemer anche quando prenota i ristoranti riemer come riemer non te lo scordi più te lo dice uno che per una vita è stato Banfi invece che Ranfi quindi insomma ogni volta ormai Banfi sì rispondevo questo perché non tiro mai fuori neanche il secondo cognome perché sennò ah perché diciamo ricordiamolo che tu sei come Ronaldo da Silva de Sosa a capire cosa abbiamo come secondo Barbozza ogni volta la gente pensa con la S con la Z Barbozza in realtà è il più semplice non vedo perché c'è difficoltà però io evito di tirarlo fuori Cecilia Riemer molto 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 Pirati dei Caraibi devo dire è proprio il mio flex eh sì sì con la roba lì sì chissà che magari un giorno appunto ti vedremo in qualche caso in qualche caso solo per via del coin o magari la colonna sonora che sappiamo ma sarebbe un onore sarebbe più più che fare la piratessa esatto esatto avrebbe più firmare una colonna sonora sarebbe male mamma mia diceva ma appunto che tra pari tu sei anche comunque grandotrice fai anche cose tue scrivi anche cose tue ne non le porti magari appunto in strada perché tu in strada vuoi più farli canticchiare e fischiettare quando passano ma che cosa hai scritto magari poi adesso la prossima volta magari portaci qualcosa che lo facciamo sentire certo nel senso no sì allora purtroppo ho il problema che purtroppo no nel senso che ho pubblicato poco per ora scrivo tanto ma ho pubblicato ancora poco ma meno male c'è gente che pubblica più di quello che scrive c'è gente che fa una canzone poi fa il remix di quella canzone poi fa il remix dub poi fa la versione poi chiama un amico spagnola poi chiama un amico e fanno la featuring quindi alla fine meglio scrivere meno cioè scrivere tanto ma pubblicare meno certo no scrivo molto acustico nel senso che mi piace ascoltare di tutto ma quando scrivo mi ritrovo molto praticamente sempre a essere voce e chitarra o piano o chitarra e piano quindi finisco per diciamo puntare molto più sull'acustico sul insomma su cose di questo tipo strumentale un po' arioso diciamo quindi questo tipo di cosa ecco diciamo strumentale un po' arioso un po' arioso nella mia testa aveva senso nel senso a me piace mi piacciono molto le cose strumentali magari degli archi delle non lo so degli strumenti che insieme danno quella sensazione di arioso che ti trasporta non so come dire quindi è il termine che mi è venuto in mente non so se sia musicalmente appropriato non penso però può rendere può rendere l'idea e il suonare in strada ti dà ispirazioni per i tuoi pezzi oppure sono proprio due mondi separati quelli ma allora sì e no non è tanto il suonare in strada è più l'esperienza che ho dal suonare in strada magari quello che vedo le persone che incontro il tipo di interazione che finisco per avere anche il feedback che ho dalle persone spesso magari capita che sto suonando qualcuno si mette a parlare con me mi dice qualcosa poi mi scrive su instagram mi dice mi è piaciuto un sacco quando hai suonato questo pezzo perché bla 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 allora io magari faccio caso a quello che funziona meglio per la mia voce a quello che anche da fuori si sente che funziona meglio o comunque anche in generale ispirazione artistica di quello che vedo quello che sento mentre sono in strada magari mi viene non lo so l'ispirazione per qualcosa insomma in tanti modi e invece l'ispirazione artistica diciamo da casa no? cosa fai? studi? hai dei canali che tu segui più o meno per trovare ispirazioni? sono cose che hai già dentro sotto pelle? ma allora tendenzialmente è molto sul momento nel senso che in un determinato momento mi viene che io sia a casa che io sia fuori mi viene quell'ispirazione mi viene quell'idea quel qualcosa che mi accende la lampadina ci sono volte in cui devo essere un po' più disciplinata nel senso dico ok adesso mi siedo e vedo di cercare di lavorare su questa cosa o su questa cosa che sto scrivendo quindi magari mi metto lì tendenzialmente mi metto in silenzio in un punto che so che la mia mente è rilassata che si può lasciare andare e a volte appunto è un po' più disciplinata come cosa mi metto qua ci lavoro scrivo faccio alla faccia di chi dice che dal caos gli artisti sono tutti fuori di te no c'è invece disciplina anche nel fare l'artista sì esatto bene 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 andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui ancora con Cecilia Riemer a nome d'arte Riemer bravissimo Riemer si Riemer come riemerge come riemerge Cecciux Man at Work Down Under alle 8.45 minuti ultimi blocco ultimi blocchi di trasmissione qui con Cecciux Cecilia Riemer che oggi non va a suonare oggi no oggi no però stasera faccio una live su TikTok ah vedi perché poi c'è anche questa c'è anche questa arba qui esatto oh ma ero poi suonare live come 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 vanno queste live ma in realtà è benissimo sono molto gasata perché oggi ricomincio perché nell'ultimo mese e mezzo sono stata via in vacanza qua e là quindi periodo di pausa diciamo è sempre bellissimo perché posso sempre parlare con le persone ormai mi sono anche affezionata diciamo i miei follower e tutto quindi il fatto di risentirli sapere come stanno come è andata l'olio estate sono molto contenta e TikTok tra i beni si nasceva proprio per la musica mi ricordavo TikTok l'ex musical si chiamavano quindi insomma nasceva proprio è vero è andata per la musica quindi evidentemente ha ancora nel suo DNA questa cosa che viene utilizzata molto appunto dagli artisti come te per importante da quanto ho capito spesso venire insomma questi social diciamo che sono schifo però vedo che in questi casi sono fondamentali ma anche per tenere proprio dei rapporti vedo sì no esatto infatti io sono super dell'idea che certo ovviamente i social hanno sicuramente tanti aspetti negativi ma tantissimi positivi proprio come questo il fatto che sia così facile finire diciamo nelle pagine delle persone poi magari le persone entrano e si ha proprio un bel momento insieme in live in cui si canta si chiacchiera ci si conosce ci si affeziona insomma anche in questo caso magari io che suono e tutto è proprio bello cioè divertente bello genuino ecco se fosse l'85 ti chiederai cosa c'hai che cassetta hai nel Walkman in questo momento siamo nel 2024 l'ultima ascoltata su Spotify Apple Music così cos'è mentre venivo qua ho ascoltato Una sera di Fulminacci una delle canzoni che più mi piace uno degli artisti che più mi piace sono stata al concerto qualche giorno fa quindi quella sì anche quella capita quasi sempre che me la chiedono in live sì sì perché poi infatti chi ti segue sui social diciamo avete molto gli stessi gusti oppure riesci a fargli scoprire magari a volte cose nuove ma in realtà la cosa che mi piace delle live è che essendo esposta a così tante persone finisco per suonare davvero un sacco di cose varie tra loro ed è sempre interessante perché spesso mi chiedono canzoni che magari sono molto diverse dal genere acustico che una persona può suonare con chitarra e voce però quindi la risuono la rivedo in chiave acustica perché io lì sono con chitarra e voce cioè non ho altro e quindi in realtà è molto bello cioè è proprio molto vario per una live su TikTok fai delle prove prima quante prove ci sono pensi a una sorta di scaletta allora prove no ho magari i miei dieci minuti prima in cui mi scaldo velocemente la voce sistemo la postazione tutto perché anche visivamente devi curare diciamo certe cose e in realtà oltre quello non ho troppo una scaletta nel senso che io più o meno so come guidarla cosa fare come gestire non suono H24 mi prendo il tempo per parlare con le persone per chiacchierare anche per fare una pausetta ogni tanto bevo un goccio d'acqua tendenzialmente incomincio sempre con una canzone che è due minuti di Calcutta un po' perché è divertente un po' perché è una canzone che conoscono tutti e chiudo sempre con Buonanotte Fiorellino perché ormai è la cosa è la tua albachiara sai che Vasco chiude sempre con un albachiara quella è la tua albachiare perfetto sì 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 e poi la gente solo aspetta ormai 90% delle persone mi conosce per quello quindi non posso non farlo occhio perché poi finisci come De Gregorio che invece non fa più generale perché non ne può più perché tutti gli chiedono generale e dicono ma non la faccio più non ne posso più quindi non stressate troppo ceci sul Buonanotte Fiorellino tanto ve la fa prima o poi se non gliela chiedete sicuramente a stressare troppo la vita va bene so che mi dicevi che invece ascolto anche roba Wiz Khalifa stavi ascoltando mi dicevi proprio fa sì 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 ma perché a livello di ascolti sono proprio e allora te la faccio ascoltare insieme ai Maroon 5 con Payphone dal 2012 qui su Crystal Radio Good Morning Minano Maroon 5 Payphone con Wiz Khalifa devo dire che io in cuffia sentivo anche Ceci che la cantava era meglio di Maroon 5 addirittura sì come è che fa che tornello capito io sentivo questa cosa in cuffia non quello lì dei Maroon 5 che non so neanche come si chiama quindi vabbè nel senso poi Wiz Khalifa che non è vuoi mettere ceciux molto meglio anzi ceciux raccontaci cioè ricordaci siamo in chiusura i prossimi appuntamenti i tuoi contatti e tutto quello che c'è da sapere per poterti seguire allora innanzitutto mi trovate su Instagram TikTok ceciux oppure Cecilia Riemer che forse è più facile come riemergere come riemergere esatto il prossimo appuntamento sai che questo è il titolo del tuo primo album doveva essere come riemergere bellissimo me lo segno a gratis abbiamo capito stupendo il primo appuntamento appunto è stasera alle nove e mezza su TikTok dove ci vediamo per una live e il prossimo è venerdì questo venerdì 13 dalle 11 alle 13 in piazzale Baracca per una sessione di basking cioè arte di strada arte di strada infatti sotto il ponte di Baracca c'è ceciux che suona non fate battute non fate battute stupide subito non fatevi riconoscere il mio pubblico chiedo scusa che lo scusa il mio pubblico dopodiché seguite ceci ceci grazie davvero di essere stata qui con noi questa mattina in bocca al lupo per tutto speriamo di trovarci presto con altre grandi novità io vi aspetto mentre faccio basking se passate lì vi suona una canzone e cercheremo di venire una volta adesso ci organizziamo cercheremo di venire io porto il tamburello esatto suoniamo Lady B insieme suoniamo Lady B perfetto noi mi faccio il caschetto come i Beatles mi faccio ok grazie ceciux un saluto a tutti sigla 8 e 55 minuti di oggi martedì 10 settembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano non è che perché non ve lo dico non c'è anzi adesso ve lo dico dopo di noi Ambrogio Curti con SentiQuesta e vi dico di più domani Ambrogio Curti sarà qui in studio con noi per raccontarci la nuova stagione appunto di SentiQuesta tutti i giorni nel 9.05 dopo il giornale radio qui su Crystal Radio se invece volete seguirci rivedere risentire rivedere i pezzi con Cecilia di questa mattina riascoltare le notizie che abbiamo dato qui a Good Morning Milano è facilissimo c'è Spotify con il nostro podcast c'è goodmorning.milano.it e c'è comunque domani mattina una nuova diretta qui dalle 7.09 su Crystal Radio seguiteci anche su Instagram anche su Facebook e sì anche su TikTok pensa te come sto messo mi hanno obbligato eh io non volevo giuro non volevo le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Cecilia Riemer Fabio Ranfi codiovate alla regia da Beatrice e Ginevra grazie mille a tutti a domani sempre qui in diretta con Good Morning Milano ciao a tutti a presto grazie mille a tutti